Romina Power, drastico dimagrimento, il segreto inconfessato Romina Power, amatissima dal grande pubblico a casa, è una di quelle artiste senza tempo, che conquisteranno sempre, in ogni epoca Ma sapete qual è il segreto del suo dimagrimento di quest'ultimo periodo? Romina Power è sempre stata una bellissima donna, elegante e di classe Una bellezza ricercata e fine, per niente mai volgare o eccessiva, con quel pizzico di frizzante che non guasta mai Impossibile dimenticarsela negli anni d'esordio accanto ad Albano cantare insieme a lui le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e che hanno conquistato il cuore di milioni di persone In quegli anni era stata una scoperta piacevole, una vera e propria rivelazione, che aveva portato una ventata d'aria fresca nella cultura artistica italiana La bella diva di Los Angeles non deve essere ricordata solo per la sua voce, il suo grande talento e per la sua storia con Albano Ma quanto per il suo essere completa, estrosa, pura eleganza e stile Ma sapete qual è il segreto del suo dimagrimento di quest'ultimo periodo? Romina Power, la dieta miracolosa che le ha fatto perdere 6 chili in 12 giorni Romina Power ormai da anni indossa quasi sempre nelle sue occasioni ufficiali e non, delle belle tuniche colorate A volte sono abbinate al pantalone altre volte prediligie dei vestiti raffinati a cui accompagna degli scialli sofisticati e sulla stessa gamma cromatica Forse non tutti lo avranno notato ma in quest'ultimo periodo sotto a queste meravigliose tuniche nasconde la sua remise anforme Ebbene sì, la bella diva è riuscita a raggiungere un risultato straordinario in poco tempo grazie ad una dieta, miracolosa Nello specifico, è riuscita a perdere circa 6 chili in 12 giorni, lo stesso continuando a mangiare come sempre Ovviamente nel corso del suo percorso è stata accompagnata da una professionista che l'ha aiutata e l'ha seguita passo dopo passo nel raggiungimento del suo obiettivo Ma sapete qual è il segreto del suo dimagrimento? La dieta che la bella Romina Power ha seguito è un regime alimentare che prevede l'assunzione dei pasti sotto forma liquida Si assumono zuppe, brodi, frullati e altri cibi come se fossero delle bevande da bere o addirittura degli smoothies Questo tipo di dieta ha permesso alla cantante di perdere i chili in eccesso in breve tempo, arrivando così al risultato auspicato Ma soprattutto di sentirsi meglio con se stessa e con il proprio corpo Prima di seguire qualsiasi dieta è però consigliabile andare da un dietologo o da un nutrizionista e farsi prescrivere il regime più adatto alle proprie esigenze, pensato e studiato sul proprio fisico